Questa volta si parla di fatti e progetti concreti. Il PNRR destina al sociale nella marca trevigiana 17 milioni di euro. Tanto arriverà per finanziare tutti i progetti presentati dai tre ambiti territoriali e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondi particolari questi del PNRR perché destinati all'ambito territoriale sociale. In Veneto sono 21, noi siamo il terzo più grande del Veneto e il nostro ambito è composto da 37 comuni e quelli dell'Exuls 9 quindi 400 mila abitanti. In provincia di Treviso siamo in tre, noi Conegliano e Castelfranco Veneto. 7 milioni 156 mila e 500 euro porta a casa al distretto di Treviso che raggruppa 37 comuni. 6 milioni 446 mila euro andranno ai progetti presentati dal distretto di Conegliano, 23 comuni, 3 milioni 981 mila euro Castelfranco con 29 comuni. I progetti nati e costruiti sulla base delle esigenze del territorio derivano da un lavoro di squadra che ha unito azienda sanitaria, terzo settore, conferenza dei sindaci e comitati dei sindaci. Questi progetti che arrivano agli ambiti territoriali hanno sicuramente una ricaduta nei piani di zona che diventano fondamentali per la previsione di questi progetti anche trascorsi i tre anni per cui sono stati finanziati. Verranno finanziati i progetti su tre ambiti principali, la non autosufficienza anziani, la disabilità e la grave marginalità. Queste erano le tre linee di intervento con una piccola quota dedicata alle famiglie e ai minori. In questa quota tutto il Veneto ha portato a casa progetti, il progetto Pippi e qui abbiamo lavorato in maniera coordinata con la regione del Veneto e sugli altri fronti invece ogni territorio ha espresso la sua particolarità. Dagli alloggi per anziani non autosufficienti al co-housing per anziani ma anche per donne e persone in difficoltà fino alla telemedicina. Da crono programma l'avvio delle attività progettuali è previsto per luglio.